E oggi sa che vi dico, non vi dico niente, sono muto, una domanda, facciamo un accordo su una domanda, tutti dicono che qui stamattina si inizia un percorso per rifare la DCP. Ma io stamattina spero di fare un'analisi scoprendo i problemi che ci sono, credo che bisogna partire da una riflessione per poi capire che succede, le cose mica si fanno, io mica sono Renzi che faccio un partito al giorno, su, e no, e no, 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 e no, e lasciate libero? Ma c'è grande attesa, Presidente, per questo... Eh, non è grande attesa mettetevi in fondo. Il Presidente prima non ce lo vuole proprio dare. Ma perché li avete fatti entrare? Ma sicuramente ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo proprio. No, il Presidente non parla, ce ne lo sanno. Che minaccia? Eh, no, non è una minaccia, scusi. Ma non potete pretendere che parlo per voi? Per i giornalisti, non è per i giornalisti, noi facciamo informazione, quindi è perché attraverso il nostro lavoro... Per informare, ascoltate e poi informate. Quindi dobbiamo sentire tutto... E per forza. Magari volevo fare una domanda, tutto qua. Ma chi ha organizzato qua? È possibile? Una domanda. Una domanda. È più semplice se facciamo iniziare. Grazie a tutti.